Pronti per raccontarvi una nuova storia del circuito in lire, questo innovativo circuito che ha messo insieme più di 600 imprenditori in Italia che stanno sperimentando questa modalità di credito compensativo, un modo anche per fare rete in un momento in cui la globalizzazione da una parte e la digitalizzazione dall'altra ha reso la competizione più aspra. Oggi vi racconto la storia di un'azienda che sta inaugurando la terza generazione e questo in Italia di per sé è già un successo. Sono con me Luca Ortolane e Daniele Ortolane. Allora intanto vi chiedo subito come sta andando questa esperienza nel circuito in lire, quali sono le prime ricadute, Luca? A parte che già noi ci siamo conosciuti all'interno di questo gruppo e già è una bella opportunità. Io sono diventato tuo cliente, tuo mio cliente e quindi testimoniamo già che funziona e che nel circuito si trovano delle soluzioni. Ecco, cos'altro ti ha colpito di questa innovativa iniziativa? Diciamo che probabilmente mi ha colpito il potenziale di questa iniziativa, quello che può ancora dare a tutti gli associati è il fatto di costruire un'impresa alternativa a quello che c'era prima e quindi una crescita insieme, tutti insieme possiamo crescere nel miglior modo possibile. A volte Daniele sottovalutiamo il fatto di investire un po' di più, siamo talmente presi dal flusso aziendale, dalla produzione che qualche volta ci fermiamo sul coltivare le relazioni che invece oggi più che mai sono importanti. Sì, sicuramente condivido il tuo pensiero. Molte volte sono veramente magari troppo la quotidianità del lavoro giornaliero, siamo magari schiavi del nostro lavoro sempre lo stesso, sempre abitudinario, la routine, l'abitudine. Molte volte vogliamo fermarci a dire però collaboriamo e sentiamo anche cosa c'è fuori dalla nostra azienda. Luca, proviamo a raccontare che cos'è oggi Grafiche Ortolan, perché anche questo settore si è evoluto tantissimo e voi avete di generazione in generazione, di volta in volta investito in tecnologie ma vi siete anche ripensati. Ecco, oggi che momento sta vivendo Grafiche Ortolan, qual è la promessa che fate in qualche modo ai vostri clienti? Beh, diciamo che nel nostro settore investire in tecnologia e in attrezzatura è fondamentale per essere al passo con i tempi e quindi è fondamentale per una crescita e per dare un servizio e una qualità ai nostri clienti che è prioritaria, è fondamentale. E quindi anche noi come tutte le aziende di un certo livello abbiamo investito in tecnologie digitali e in risorse umane. Quindi quello che posso dire ai nostri futuri clienti è che ci possono, possono contare assolutamente su di noi perché abbiamo il know-how per far crescere il loro business. Ecco, risorse umane. Chi sta dall'altra parte, da cliente, spesso non sa cosa c'è dietro, un bigliettino da visita, una cartellina, la confezione del packaging che conterrà il tuo prodotto, il tuo panettone piuttosto che la tua bottiglia di vino. Ecco, raccontaci che tipo di professionalità in qualche modo animano la vostra squadra, quanti siete e dammi un po' di elementi grafici, quali altre figure animano una moderna industria di produzione grafica oggi? Beh, la nostra struttura oggi conta circa una quindicina di collaboratori ed è fondamentale per un nuovo progetto partire dall'ufficio tecnico. Quindi da lì ascoltiamo le necessità del nostro cliente e sviluppiamo quello che a lui serve per consentirgli di vendere nel miglior modo possibile il suo prodotto. Quindi partiamo dalla progettualità, alla campionatura e successivamente a tutte le fasi di produzione. Daniele, quali sono i rischi che si corrono di più quando parte una nuova commessa? A cosa bisogna stare attenti? Beh, la cura del dettaglio penso che sia fondamentale. Fin dal primo arrivo del primo file che magari il cliente manda una volta commessa acquisita. Detto questo, per cui il dettaglio fa parte proprio della nostra, è importantissimo. Per cui il controllo del file è la prima cosa che bisogna verificare. Una volta che il file poi è dato dall'ufficio grafico, dato il benestare alla stampa, si può andare in produzione. E poi il cliente, io lo dico anche da cliente, prima di iniziare la trasmissione vi confessavo qualche disavventura che ho avuto proprio con aziende come la vostra, non esattamente come la vostra, devo dire, perché invece già dalle prime commesse testimonio di essermi trovato bene, questo fatto di essere seguiti, no? Cioè nel senso, io non sono l'esperto, se vengo da te magari posso anche non avere le idee chiare, ma mi devi aiutare, no? Sicuramente il rapporto umano, perlomeno, non siamo solo una voce al telefono o via email che ci scriviamo, ma insomma anche delle persone, un rapporto umano che potrebbe essere, che possiamo dialogare fra cliente e fornitore e risolvere i vari problemi che ci possono essere. Ecco, questa cosa che dice Daniele, torno a te Luca, significa che è vero, anche voi vi state organizzando per l'e-commerce, poi ne parleremo sul futuro dell'azienda, ma senza rinunciare alla componente umana, no? Questo è proprio un po' il modo italiano di fare le cose, lo vogliamo dire? Assolutamente sì, l'ideale sarebbe creare un e-commerce con un rapporto umano. Quindi un e-commerce assistito, diciamo. Esatto, esatto. Bisogna capire in che modo riuscire a sviluppare questo tipo di progetto che spero che tu ci aiuterai nel miglior modo possibile. Ci stiamo lavorando, invece adesso riavvolgiamo un attimo il nastro, perché io dico che la forza di un'azienda sta anche nella sua storia, perché se c'è una storia, dentro quella storia hai imparato tante cose che ti sono arrivate magari anche dalle generazioni precedenti. Qui, lo dicevamo prima, fra un po' conosceremo anche la terza generazione di grafiche ortolan, ma riavvolgiamo un po' il nastro e torniamo al papà, alla prima generazione. Siamo, mi dicevi prima, nel 68, nel pieno della rivoluzione, come dire, culturale. Ecco, il papà decide di aprire questa prima tipografia. Com'era? Scattami una fotografia su quel primo ufficio. Una sola macchina e la stampa, un solo stampatore, com'era? Beh, devo dire che non è facile per me raccontartela, perché non era ancora nato quando è nata la mia azienda. Nel 1968 mio padre aveva 63 anni, 23 anni, perdonami. Io sono nato nel 1971, quindi tre anni dopo. E sì, sicuramente è nato, diciamo, in cantina, come tante aziende di quegli anni, con una macchina da stampa, una macchina tipografica. C'è ancora quella macchina? C'è ancora. Siete riusciti a conservarla? C'è ancora, c'è ancora, sì. Immagino fa parte del museo dell'azienda Ortolano. Assolutamente sì. E che macchina è? Dacci qualche... È una... la chiamano la stella, la mitica stella. Che formato era? È un formato 32-46. Aveva già le lastre? Che tecnologia aveva? No, è una macchina tipografica, quindi ancora con i caratteri mobili. Wow. Sì, sì, quindi... è una macchina storica. Che ci riporta veramente, boh, al passato, più passato che c'è. Assolutamente sì. Anche perché allora non c'erano ancora i computer, giusto? Assolutamente no. C'erano... solamente questo... c'erano le linotype, che erano quelle macchine che ti creavano i cliché oppure i caratteri per poi andare a stampare. Ti ricordi, hai detto tu, sono nato dopo, la prima volta che hai messo, come dire, la faccia dentro l'azienda, hai sentito anche l'odore dell'inchiostro, immagino. Te lo ricordi? Quanti anni avevi? Eh, avevo otto anni, erano la fine degli anni settanta, quindi. Già a quel tempo le macchine da stampa erano circa tre o quattro, quindi da una siamo cresciuti ed è stato emozionante. Che ricordo hai di quella giornata, quando sei entrato? Eh, quando sono entrato ho iniziato, ho pensato cosa potevo fare. Già mi piaceva... non so, mi è piaciuto da subito e volevo... mi sono... mi ricordo che ho detto a mio padre se potevo fare qualcosa. E cosa ti ha fatto fare? Beh, non me lo ricordo. Daniele, invece tu, quando sei entrato per la prima volta? Io abbiamo... siamo quasi coetanici, ho tre anni meno di lui, per cui anch'io ho seguito lo stesso suo binario, nel senso che anch'io ovviamente l'azienda è nata, che il nostro padre l'ha fondata, per cui io ho ancora nato. Sono andato in azienda qualche anno dopo di lui, per cui leggiamo che la strada percorsa è la medesima, per cui abbiamo condiviso la strada insieme. Cioè c'era l'idea in quella, voglio dire, generazione, no? A cui apparteneva vostro padre, che è un po' uguale anche per me, ancora di mandare il figlio a bottega, di fargli respirare fin da piccolo, sì, la scuola, però anche di imparare un mestiere. Scuola importante, però anche il mestiere visto proprio dalla produzione è sicuramente importante. Primi lavoretti fatti da te, Daniele? Difficilmente, gli anni sono passati, sembro giovane, mica troppo, però 48 anni li ho compiuti, per cui mi diventa difficile ricordare i miei primi lavori, però sicuramente è sempre emozionante, no? Per me il profumo della carta, il profumo dell'inchioso, per me è un profumo, per cui sicuramente... Cosa, Piero, volevo dire che mio fratello ha iniziato come primo ruolo a stampare. Sì, proprio a fare... A stampare, quindi... Ad avviare la macchina e a farla funzionare. A stampare, quindi era una macchina offset a due colori, se non ricordo male, e quindi ha fatto tutta la gavetta, tutti i processi, tutti i passaggi per conoscere le varie fasi di produzione. Daniele, quali erano le criticità di quelle macchine e se sono ancora rimaste, no? Che poi fanno la professionalità, boh, di un macchinista, chiamiamolo così, si chiama macchinista? Sì, è corretto, ci sono diversi parole, sicuramente il macchinista è un buon aggettivo per definire la persona. Diciamo che ho iniziato sia a stampare su questa macchina 35-50 a due colori, per cui sicuramente le tecnologie di oggi sono cambiate, per cui la macchina aiuta il macchinista. Lì la cosa più difficile, cioè la criticità di quelle macchine rispetto che poi è stata evidentemente superata dalle macchine moderne, qual era? Sicuramente l'equilibrio per cercare di stampare nel modo corretto, diciamo, un'intera tiratura, molte volte la macchina era meno stabile. Si inceppava, insomma. Sì, si inceppava, tecnicamente sì, adesso l'alterazione del colore. Perché erano più passaggi, no? Più passaggi sicuramente, con determinati fattori che magari davano ad alcuni disequilibri da punto di vista del colore. Adesso le macchine sono molto più performanti, più affidabili. Sicuramente il macchinista ci vuole sempre, perché ovviamente anche quello conta. Le macchine non fanno tutto. Ecco, Luca, le macchine non fanno tutto, però certo, quel periodo lì era un periodo dove il cosiddetto manico, si dice a volte, no? La capacità di guidarla, quella macchina, succede anche per le automobili, ad esempio. Serviva un po' di più, perché erano meno assistite, possiamo dire così? Beh, a quel tempo il manico, come l'hai definito tu, creava la differenza. Quindi la differenza fra un prodotto stampato bene e uno stampato benissimo era proprio il manico. E quindi era fondamentale. E per quanto ci riguarda, ne abbiamo qualcuno in azienda. Ce lo siamo tenuti stretto. Qualche vecchietto, tra virgolette, che ancora puoi insegnare ai giovani. Ecco, qualcosa su questo, perché a volte trascuriamo in Italia spesso c'è questa idea di rottamare, un po' l'anziano, no? Ormai ha dato tutto, invece no? Cioè, ancora di più nelle industrie è pieno di vecchietti che ancora oggi fanno la differenza o sbaglio? Assolutamente. Noi abbiamo un dipendente che lavora con noi dal 1978 e che quindi ha un'esperienza che ci ha fatto crescere a tutti perché è quello che ha più da dare, no? In questo caso. E molti altri l'hanno seguito. Senti, l'insegnamento più grande che ti ha dato tuo padre, che ti è rimasto impresso e che ancora oggi per te è centrale, no? Ogni giorno in azienda. Beh, sicuramente la determinazione di raggiungere degli obiettivi, e la convinzione di potercela fare e anche la determinazione stessa per poi raggiungerlo. Quindi questi sono i due valori fondamentali che mi ha dato. E questo è talmente vero che voi avete anche dei clienti di prestigio importanti, no? Come ci siete arrivati? La prima volta che è arrivato davanti a te in azienda un cliente che rappresenta un grande brand, boh, ti tremavano un po' le gambe nel gestirlo o cosa? Beh, sì, sicuramente. Anzi, mi tremono ancora oggi perché ogni nostro lavoro è una sfida. Quindi per noi un lavoro nuovo è un primo lavoro, anche se il cliente ormai è consolidato, però è una sfida continua. Vogliamo citarne qualcuno, giusto per capire, questa azienda che veramente io sono stato a trovarli, sono veramente bravi, capaci, poi ho provato anche i loro prodotti, ho visto la reazione dei miei clienti, mi occupo chiaramente di seguire i clienti in termini di comunicazione e marketing, quindi la mia, in questo caso, è una testimonianza attiva che mi piace fare agli amici di InLireTV. Attraverso InLireTalk, ma anche a tutte le altre imprese che vedranno questo video e a prescindere se stanno nel circuito o meno, possono capire che stiamo parlando veramente di una eccellenza, di un'azienda che ha da sempre investito per innovare e che sta continuando a farlo. Ecco, qualche brand di quelli importanti, tanto li possiamo dire per dire che riuscite a lavorare davvero anche per punti di riferimento del Paese. Beh, abbiamo lavorato nell'ambito, nel settore moda per Giorgio Armani e lavoriamo tuttora. Abbiamo lavorato per Versace, per Etro, per Calvin Klein, piuttosto che altri che non ricordo, ma per Acqua di Parma, veramente per molti. Qual è la richiesta più forte che arriva dai clienti, in questo caso importanti, ma anche quelli meno importanti oggi? Come dire, che cosa chiedono soprattutto, che tu senti essere la cosa su cui tutta la tua squadra poi deve stare attenta? Beh, oggi ti chiedono di non sbagliare mai, perché il tempo per rifare un lavoro non ce l'hai. Quindi vogliono un'affidabilità completa, una qualità ottima e anche un ottimo prezzo. Ed è una bella sfida. Daniele, invece, immagino che l'azienda si arricchisca costantemente anche di nuove leve. Ecco, posso chiederti in che modo ho selezionato i nuovi collaboratori? Personalmente, cos'è ingrinunciabile per te quando arriva un nuovo collaboratore nel dire sì, ok, lui è giusto? Non è facile prendere queste scelte, perché i collaboratori sono, penso, una fetta importante dell'azienda. Circondarti di persone valide è sicuramente fondamentale. Per cui, quando parliamo, cerchiamo di trovare nuovi collaboratori, sicuramente siamo entrambi a fare, chiamiamolo così, un colloquio forse, questa è la migliore definizione. E poi forse, la mia impressione, è quella che conta, secondo me. Poi, chiaramente, sul campo dobbiamo mettere in pratica quello che poi uno dice di essere o di saper fare. Sicuramente anche questa, la prova è sicuramente quella, secondo me. Voi adesso, come insediamento aziendale, siete in via Diazza d'Opera, che è la terza location, vi siete voluti anche in questo. Ecco, c'è qualcosa di strategico in quel luogo, in opera, per un'azienda come la vostra? Cioè, nel tempo vi siete ritrovati a capire che quel punto lì, nel sistema Lombardia e paese, vi aiuta un po' a performare meglio? Beh, diciamo che noi siamo cresciuti ad opera, perché a opera siamo dal 1981, quindi siamo cresciuti con il tessuto sociale, con le aziende vicine, con il territorio. e quindi per noi è casa nostra e quindi... Ma è un territorio comunque che ha una buona vocazione industriale, commerciale, attorno a voi avete tante aziende o dovete andarvele a cercare anche lontani da lì? Beh, diciamo che anni fa ce ne erano veramente tanti e lavoravamo quasi esclusivamente con le aziende del territorio. Poi man mano che sono passati gli anni per varie vicissitudini, molte aziende poi sono sparite. E come si fa appunto? Sento anche un po' la tristezza che abbiamo tutti nel vedere che il mondo è cambiato, siamo dentro una vera e propria rivoluzione industriale. Io dico che chi sta vivendo questi tempi è come se vivesse un po' gli inizi del Novecento, quando a un certo punto dal calesse e il cavallo abbiamo visto arrivare le prime macchine e si pensava che quelle macchine avrebbero distrutto tutto, poi invece abbiamo capito che bisognava solo adattarsi a quelle macchine e fare un po' proprio il sistema. Stiamo vivendo un po' questo. Ecco tu, Luca, hai capito qual è la sfida, cioè anche per aziende come la vostra, cioè dove si vince la partita e dove si perde? Beh, innanzitutto bisogna giocarla la partita. E bisogna giocarla e cercare di ottenere il massimo risultato rimettendosi in gioco tutti i giorni. Quindi giorno per giorno affrontare una sfida nuova. Fra un po' andiamo in promozione, vi facciamo vedere anche uno dei promo del circuito in lire che ci ospita, dentro il quale stiamo animando questi incontri. A Daniele chiedo, dammi una, due ragioni davvero importanti per cui non solo gli imprenditori del circuito in lire, ma tutti quelli che ci stanno guardando possano sentirsi davvero in buone mani venendo da voi. Penso che il servizio che diamo a tutti i nostri clienti, dal piccolo al grande, al brand di lusso, o anche alla persona più, che ci chiede anche un lavoro molto piccolo, dedichiamo tanto cuore a questo lavoro. Per cui sicuramente la qualità, il prezzo e il servizio sono i tre fondamentali che ci permettono di dire venite da noi a provare i nostri prodotti. Grazie Daniele, fra un po' ritroveremo ancora Luca con la terza generazione che sta per arrivare, quindi parleremo anche di futuro, cercheremo di capire come Grafico Ortolan sta costruendo il proprio futuro, su cosa sta puntando, dove sta performando di più. Adesso vediamoci un attimo uno sport che ci ricorda la bontà del circuito in lire messo in piedi dal presidente Romifu, che è un modo per salutare tutti gli amici di questo circuito e di invitarli a diventare una volta di più clienti di Grafico Ortolan, perché credo che oggi vi sto presentando veramente un team qualificato, di persone per bene e soprattutto capaci, con una storia vera, da mettere a disposizione delle vostre aziende affinché possiate meglio comunicare i vostri servizi e i vostri prodotti. E rieccoci dopo questo breve promo, siamo insieme alla famiglia Ortolan, che guida Grafico Ortolan, questa importante industria tipografica che via via ha allargato il proprio raggio d'azione che si trova ad opera in Lombardia e che fa parte del circuito in lire. Un'azienda pronta a guardare al paese, magari perché no anche fuori dal paese, visto che la globalizzazione, la digitalizzazione, Luca ripartiamo da qui, è un limite. Prima mi raccontavi di questi aziendini attorno ad opera che erano il 90%, quasi 100% del fatturato, però è anche un'opportunità, nel senso che già vi sta succedendo, ma in futuro perché no? Si può consegnare la merce non solo in Sicilia, ma anche magari perché no in Germania. Si può fare? Si sta già facendo? Si sta già facendo, sicuramente. Oggi le possibilità di lavorare sono innumerevoli rispetto a qualche anno fa. Quindi noi abbiamo già collaborato con clienti all'estero con ottimi risultati. Sia in Medio Oriente abbiamo avuto qualche esperienza oppure negli Stati Uniti con qualche editore. Bellissima notizia. Come vedete le cose sono sempre più belle di come le immaginiamo. A volte siamo un po' pessimisti in questo paese e ci dobbiamo ricordare che il mercato è fatto di fiducia e la fiducia la dobbiamo infondere per primi noi. E in questa famiglia la fiducia è talmente forte che viaggiamo verso la terza generazione. Abbiamo conosciuto fino a qui anche Daniele. Ora arriva Davide, che è tuo figlio. Luca, intanto, ecco, come hai fatto a portarlo dentro? In che modo sei riuscito? Perché qualche volta i figli sentono il bisogno di prendere strade diverse dai papà. Ecco, come ci sei riuscito? Perché questo interessa a molti genitori che magari hanno i figli ancora piccoli e non sanno se faranno la stessa scelta dei padri. Ma in realtà io non ho assolutamente fatto nulla perché lui seguisse, diciamo, le nostre orme, la nostra azienda. Ha scelto lui, l'ho lasciato assolutamente libero di scegliere. Ah, e questo è interessante. Anzi, mi sembra forse il modo migliore. È un po' la legge dell'attrazione. Io ti faccio vedere quello che faccio, se poi ti piace, sei tu a sceglierlo, no? Anche perché è fondamentale scegliere un lavoro che ti piaccia fare, che è fondamentale perché tu ottenga dei risultati importanti. E allora Davide, lo chiedo a te. Che cosa ti è piaciuto? Che cosa ti ha fatto scattare la molla di dire voglio fare il lavoro che ha fatto mio nonno e che fa papà? Allora, innanzitutto c'è da dire che sento una grande responsabilità essendo la terza generazione di questa azienda e vedendo anche poi come mio zio e mio padre hanno continuato il lavoro che ha iniziato mio nonno 53 anni fa e diciamo che ho avuto molte esperienze anche avendo solo 21 anni diciamo che non è stata la mia prima scelta questa però provando svariate cose anche andando all'estero a lavorare ho capito che comunque sentivo che questa era la mia strada Che lavori hai fatto all'estero? Giusto per capire come si arriva poi a fare scelte di questo tipo? Allora, io ho lavorato come diciamo che ho fatto ho studiato lingue quindi l'inglese, lo spagnolo, il tedesco ho lavorato come receptionist come guida turistica Anche lavori utili Diciamocelo perché dall'altra parte ci sono i poetani che a volte pensano ma bisogna subito, devo essere valorizzato intanto bisogna fare esperienze anche di piccole cose ecco fare il cameriere in tante storie di impresa è stato un lavoro centrale perché ti insegna, non che bisogna farlo per forza però certamente quei lavori lì ti insegnano cose che non sempre impari a scuola Sì, perché poi tutto torna utile anche avendo lavorato all'estero diciamo che posso usare le lingue come punto forte come se lavoriamo con clienti esteri diciamo che si può puntare su di me Fantastico e questo sta tornando Luca? Assolutamente sta tornando in prospettiva è sicuramente un valore aggiunto Possiamo dire ai genitori che ci guardano dall'altra parte che guidano un'impresa ecco i figli bisogna un po' lasciarli andare affinché poi tornino perché quando tornano se sono andati più distanti e più lontano di noi magari ci portano una cosa che noi non avevamo Esatto, ci portano qualcosa in più che come hai detto tu non avevamo e quindi sono fondamentali Ti emoziona l'idea che tuo figlio da solo appunto abbia lui l'abbiamo sentito emozionato e responsabile da una parte ma anche tu immagino come padre, come seconda generazione e sei emozionato in positivo a sapere che tuo figlio abbia voluto abbracciare questa idea Assolutamente felice e contento di ciò ci mancherebbe e devo dirti che dentro di me lo speravo e pensavo proprio che scegliesse questa strada E allora Davide che cosa stai cercando dentro l'azienda di curare? Qual è l'area che ti piace di più e sulla quale ti stai spendendo di più? Diciamo che quando sei all'inizio devi farti una visione generale dell'azienda Di vari reparti Dalla produzione fino alla parte commerciale perché per diventare un buon commerciale devi avere delle basi appunto devi saper parlare con i clienti dei tipi di carta, dei vernici, di colori Diciamo che devi assimilare prima la parte produttiva per poi sapere devi sapere cosa produci per venderlo Guarda, il fatto che tu stia parlando di vendita mi entusiasma perché io da anni provo a dire guardate che la vendita è la cosa più importante in un'azienda e anche alcuni imprenditori ricordo un'intervista ad Antonio Cercello che è uno dei re della metalmeccanica nel mondo oggi ha 81-82 anni e quando ho detto Antonio chi è il primo venditore della tua azienda e lui ha detto sono io sono io e lo diceva con una contentezza incredibile e poi aggiungeva tu puoi fare le macchine più belle del mondo ma se non hai i clienti se non le sai vendere non serve a nulla e mi fa piacere che tu come terza generazione sei partito proprio dal commerciale ecco perché sei partito da lì? perché trovi che è così importante in effetti l'approccio commerciale in azienda? allora sicuramente appunto come dicevano prima anche mio padre e mio zio noi cerchiamo molto di costruire un rapporto umano con il cliente e penso che appunto questo sia fondamentale che anche dalle scuole che ho fatto dalle esperienze che ho avuto per me costruire un rapporto umano è fondamentale mi trovo bene a parlare con i clienti mi racconti un aneddoto perché ultimo che ti è piaciuto particolarmente un cliente dove hai sentito che veramente sei riuscito a trasferirgli quello che volevi sì diciamo che secondo me il primo cliente è quello che ti rimane più impresso diciamo che la prima volta che mio padre mi mandò in missione diciamo da un cliente nuovo mi ricordo che si parlava di una cosa da niente di blocchetti sai quelli sì block notes e mi ricordo che anche se era una quantità abbastanza ingenua erano un 500 block notes quando sono tornato fierissimo sembrava di aver conquistato il mondo un cliente importantissimo Luca questa cosa che sta dicendo tuo figlio è fondamentale io insisto e noi raccontiamo queste storie certamente per farci conoscere ma anche per fare cultura di impresa perché negli ultimi anni soprattutto è passata anche quest'idea che i giovani italiani oggi siano bamboccioni e invece no siamo noi forse che non li abbiamo capiti o qualche volta noi che non gli abbiamo dato un'occasione vera in quello che raccontava tuo figlio adesso c'è un po' questa risposta assolutamente sì diciamo che poi lui è stato bravo a cogliere le proprie opportunità le proprie sfide questo per ognuno di noi è fondamentale e speriamo che in futuro sia sempre più responsabile e dia un contributo ancora maggiore rispetto a quello che già sta facendo chi ha più o meno la nostra età e ha dei figli così per tanto tempo non so se ti è successo Luca ha pensato vabbè ne ho viste così tante io ormai che i miei figli forse io sì potevo insegnare qualcosa a mio padre ma i miei figli a me no perché le ho viste tutte e invece c'è un momento in cui cominci a pensare che forse stai invecchiando perché invece qualcosa i tuoi figli te la insegnano ti succede Luca? io cerco di imparare da tutti principalmente dalle persone che sono vicine quindi cerco di imparare cose anche da mio figlio e sono sicuro che ha cose da insegnarmi nonostante la sua giovane età e allora iniziamo a parlare un po' di futuro siamo alle battute finali cioè dove sta andando Grafiche Ortolan? terza generazione partiamo proprio da Davide e poi torno a te Luca ecco in che direzione state andando? secondo te la partita ecco più importante che vi dovrete giocare nei prossimi mesi e anni qual è? sicuramente secondo me bisogna essere molto più presenti sui social e a forza di cose parlo della mia generazione ormai facciamo tutto da casa con lo smartphone o col pc e quindi penso che essere un punto di riferimento aprendo il nostro e-commerce stiamo aprendo appunto il nostro e-commerce tu ci aiuterai appunto e quindi penso che bisogna dare una svolta verso quella direzione ecco aiutaci perché a volte noi che non siamo nativi digitali il tuo padre non lo siamo tu si e quindi il computer è arrivato dopo nelle nostre vite e a volte ne abbiamo quasi paura o pensiamo che che possa essere solo negativo troppo troppi social invece ecco voi che siete nati con il digitale in tasca in mano e come lo usate? perché cos'è che ecco un buon uso dei social del digitale qual è secondo te? allora diciamo un esempio pratico parlando sempre della nostra azienda rimanendo in tema è che appunto diciamo anni fa ma ancora oggi succede che il cliente si presenta in azienda e tutte le fasi di produzione dal primo file che sicuramente come abbiamo parlato prima per costruire un rapporto umano è fondamentale però comunque potendo fare anche molte cose da casa semplicemente inviando un file magari un cliente nuovo per attirare clienti nuovi con un e-commerce chi non ti conosce noi siamo a opera però se vogliamo lavorare con gente da tutta la Lombardia da tutta l'Italia sicuramente per forza di cose bisogna essere presenti online e Luca ecco quello che stiamo provando a fare qui anche con il Lira e TV che condividiamo io stesso che ho veramente dedicato tutte le mie energie a questa in questa parte della mia vita a questo mestiere quindi trasformare molta della comunicazione in audiovisivo ti chiedo quanto conta per te oggi lo stai facendo tu come azienda vedere il tuo cliente in faccia vedere chi è vedere che il tuo cliente o fornitore un po' ci mette la faccia quando lo scegli beh è fondamentale è fondamentale perché crea fiducia crea fiducia e crea sicurezza nel nel cliente stesso io quando devo comprare ho un rapporto diretto con un fornitore hai più strumenti per valutare esatto mi racconti qualche ad esempio esperienza positiva il circuito in Lira è giovane anche se sta crescendo tanto anche perché devo dire il suo presidente e la squadra che ha attorno sono molto attivi molto dinamici li ringraziamo per questo perché ci puntiamo tanto anche noi associati qualche esperienza positiva sia pure nella giovinezza di questo circuito che ti senti di riportare ma devo dire che io ho avuto solo esperienze positive quindi devo fare dei complimenti a Romi Fuc che è il fondatore presidente di questa di InLire perché ha saputo scegliere associati che sicuramente creano valore e meritano di lavorare insieme a lui Davide e voi fate prodotti anche molto complessi no? perché spesso uno vede l'industria grafica legata alle cose semplici bigliettini da visita e se non sei un'azienda un po' più avanti nei sistemi commerciali neanche ti immagini no? quanti altri prodotti ci sono mi fai una carrellata veloce invece delle altre cose che fate per farci capire che cosa ci possiamo aspettare venendo da voi? noi per esempio ora stiamo puntando molto su diciamo su una nicchia di clienti anche vogliamo chiamarli così stiamo realizzando delle scatole da collezione possiamo farle in tutte le forme quindi si chiama cartotecnica tecnicamente quindi sono i classici prodotti io prima facciamo qualche esempio da packaging no? quindi la classica scatola da regalo ora arriverà il periodo festivo dove trovi dentro la bottiglia di vino il panettone soprattutto ora appunto stiamo lavorando molto con confezioni packaging per i panettoni appunto per anche ci è capitato per alcolici per il gin sì diciamo che noi diamo il cliente ci dà un'idea e noi poi da lì riusciamo a trasformare la sua idea a svilupparla e a trasformarla in cose ecco Luca è una coincidenza ma in fondo non la è non lo è perché ragioniamo allo stesso modo anche noi però in fondo ecco oggi siamo qui nel museo del design italiano di Bertone questo pezzo di racconto che ha appena fatto tuo figlio è figlio della stessa mentalità e approccio italiano siamo bravi a confezionare le cose che nel vostro caso significa dare delle soluzioni per confezionare i prodotti dei vostri clienti quanto potrà crescere questo settore che state abbracciando in questi ultimi anni? spero tantissimo certezze non ne abbiamo però noi ci crediamo e puntiamo in questa in questa direzione e pensiamo che ci possa dare sicuramente delle ottime delle ottime soddisfazioni se ci guardano dei giovani come te state cercando ancora qualcuno per arricchire la squadra e se si quali sono le figure che fate più fatica a trovare? allora diciamo che sicuramente dei web designer secondo me anche sono utili per sviluppare l'area web io voglio puntare molto con l'estero lavorare all'estero quindi comunque ragazzi che sanno parlare bene le lingue oggigiorno è fondamentale e poi ogni persona è valida comunque come abbiamo detto la prima impressione secondo noi fa tanto capire il tipo di persona che abbiamo davanti che sia una persona appunto possa dare un valore aggiunto alla nostra azienda Luca mi sa che di quest'andazzo se questo ragazzo ha ragione bisogna aggiungere un altro capannone a fianco a quello che c'è speriamo presto speriamo presto ecco uno dei sogni che vorresti realizzare nei prossimi anni grazie anche a questa squadra straordinaria beh uno dei sogni è festeggiare i 55 anni della nostra attività quindi fra due anni speriamo di poterlo fare insieme nel miglior modo possibile assolutamente sì sarebbe davvero un onore un piacere Davide tu cosa vorresti trovarti a quel traguardo un pezzo che già ti immagini nella tua testa e che vorresti che fosse lì a quel 55esimo compleanno spero di essere ancora più presente nell'azienda spero di di essere cresciuto perché si può dire che io sono agli inizi ancora e spero di gli dare un contributo importante grazie davvero abbiamo conosciuto Grafiche Ortolan Luca Daniele Davide ma poi c'è tutta questa squadra 15 persone straordinarie e state vedendo già delle immagini che vi fanno capire di cosa stiamo parlando e poi certamente ci saranno occasioni per raccontarvi anche come lavorano sul singolo prodotto sulla catena produttiva come stanno sviluppando i progetti e perché no sentire anche dalla viva voce dei loro clienti perché continuano a sceglierli io la mia testimonianza l'ho fatta e non perché loro sono qui ma perché davvero ho voluto stando dentro il circuito e per esigenze che ho come azienda metterli alla prova e devo dire sono stati precisi straordinari perfetti anche nei consigli perché per quanto tu possa essere un'agenzia che le idee chiare poi il produttore che ci mette le mani insomma nei prodotti e lui che deve tranquillizzarti e devi dimostrarti che quella tua idea può diventare qualcosa di funzionale quindi grazie lo dico oggi pubblicamente anche per i lavori fatti fin qui e per quelli che arriveranno grazie a te Piero un'ultima auspicio Luca lo lascio a te è una cosa che vorresti realizzare entro la fine dell'anno abbiamo parlato di sogni a lungo termine a breve termine che Natale vorresti fosse questo intanto sta andando bene la produzione è ripartito il mercato sì diciamo che da settembre il mercato è ripartito alla grande per quanto riguarda che Natale mi aspetto io mi aspetto un Natale sereno per tutti bene con questo augurio che giriamo a tutti voi anche questa notizia che fa vedere un'Italia che non sempre vediamo nei Tg troppo presi da dare sempre i numeri della pandemia ecco vogliamo che anche i colleghi giornalisti per carità ci dicano cosa succede nella pandemia ma ci diano anche altre notizie cioè che il mercato davvero sta ripartendo non solo quello delle grandi aziende ma anche delle piccole e medie aziende che poi sono la spina dorsale di questo paese grazie per essere stati insieme a noi ringrazio ancora la famiglia Ortolan e vi do appuntamento ad una prossima puntata di Indire Talk grazie grazie Piero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti